Sì, Salvatore Iannuzzi, dirigente del centro aziendale di neuroscienza dell'età evolutiva dell'ASL Salerno. L'ingondro che oggi ha inizio si propone di implementare il bagaglio di conoscenze degli operatori della nostra azienda rispetto ad un problema in crescita esponenziale che è quello dei disturbi dell'apprendimento. Il nostro obiettivo è confrontarci su quelle che sono le nuove acquisizioni scientifiche sul tema e anche attivare risposte assistenziali sicuramente più in sintonia con le cose che accadono, con le acquisizioni che vengono fatte. Nel corso di questo convegno saranno presentati i risultati di una ricerca su quella che è la condizione dei bambini salernitani in tema di disturbi dell'apprendimento.